POKEMON SOLSILVER 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 Extrasenso Non si sarebbe fatto molto Mach Bene Sembra un pezzo di sterco gigante Mach Ed ha anche delle statistiche abbastanza buone Per essere un Pokémon mai utilizzato Penso anche Ecco vedete Difesa speciale molto alta Oh mamma Oh mamma Fango pece ristabilisce parte dei PS Ha una difesa assurda Ed è anche di livello minore rispetto a Kyuubi Quindi Fantastico Volevo averlo anch'io nella mia squadra Sapete Solo che Non è una bella presenza Ecco Ok prossima scelta sarà Crobat Crobat è volante E veleno Quindi Un Extrasenso dovrebbe buttarlo KO Vai Kyuubi Vai Kyuubi Vai Kyuubi Vai Kyuubi Chepalabam Ottimo 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 E' super efficace Anche lui E' fango pece No Baccacedro Bastardo E mi ha fatto anche un attacco d'ala Doppiamente Bastardo Adesso te la vedrai con un altro Extrasenso Oh si Dai 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 Ce l'ho fatta Ok Kyuubi Riceve Sale livello 57 Kyuubi è uno dei Pokémon Che ho utilizzato di più Poi c'è un Venomot Che è Coleottero volante Quindi Extrasenso Mi sa che non andrebbe Il mio ultimo Pokémon Hihihihi Tanto è su questo Che puntavo tutto Ma Vabbè Vedrai i tuoi sogni Infrangersi come le alucce Del tuo Pokémon Sul quale puntavi tutto E vabbè Benissimo E' super efficace Venomot e Sausto Kyuubi riceve bla 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 Mi ha mostrato quanto vali Oh si Ti ho attaccato con tutte le mie tecniche Ma è stato tutto inutile Dovrò perfezionarle Vai alla prossima stanza E mettiti alla prova Con le tue capacità Finito l'effetto di repel Ah vabbè Chi se ne frega Ok Oh No Oh no Oh no Questo non mi ricordo nemmeno Che Pokémon usa Penso sia O fuoco O O lotta Sono un Bruno di Super 4 Mi alleno sempre al massimo Perché credo in me Nelle possibilità Dei miei Pokémon Ecco perché siamo così forti Riuscirai a tenerci testa? Non vedo alcun timore in te Hai determinazione Lo spirito giusto per lottare Vale Iniziamo Dovrei piegarti alla nostra potenza All'attacco Bruno Mmm Bruno è il capellone Non puoi farmi nulla Can't touch this Oh Credo che ho fatto veramente bene A dare a Cubie extra senso Si sta rivelando sempre più utile E per fortuna lo impara da solo Senza dovergli dare MT MN O robe simili Peccato che questo ha resistito Oh grazie Oh che culo Però penso che cambio con Anacletro adesso Perché volante è super efficace su Come si chiama? Su lotta E farebbe anche delle mosse stub Vi ho già parlato in precedenza Delle mosse stub Sono quelle mosse che Che ne so Feral Fury ha surf Quindi il surf di Feral Fury Che è una mossa d'acqua Fatta da un tipo d'acqua Aumenta la sua potenza di 1.5 Mentre se lo dovesse fare Che ne so Un Pokémon che non è d'acqua Allora la potenza è normale Rimane quella Comunque mi sbagliavo Perché Non ho dovuto cambiare con Come si chiama Mi sono dimenticato come si chiama Il mio Anacleto Ok Hitmonchan Io quindi cambio e metto Anacleto Vai Allora Perché ho deciso di mettere Anacleto Al posto di Kyubi Perché come ho detto Essendo super efficace Ed essendo anche un tipo volante Ed essendo anche un tipo volante Pur che mi fanno un colpo di lotta Contra Anacleto Non mi faranno quasi nulla Per via del suo tipo avvantaggiato Oh cazzo Non avevo messo in conto Gelopugno Che è una mossa di gelo Non di lotta E che quindi è super efficace Contra Anacleto Ma Ad ogni modo A parte Hitmonchan Credo che nessun altro Dei suoi Pokémon Conosca Una mossa simile Quindi dovrebbe stare apposta Anacleto Oh Machamp Machamp Vediamo Ancora Eterelama È molto più veloce Dei suoi Pokémon E questo è un punto A mio favore Nooo Che palle Ste bacche Oh E ho ristabilito anche Un bel po' di saluto Oh mio Dio Cos'è No Auc 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 Ah Ipnosi Anacleto Bravissimo Così intanto Posso ristabilire Eh Posso Ristabilirgli la salute Machamp Dorme E dormi Dormi Allora Terapie Terapie PSP Iperpozione Quanto ridà 200 Perfetto Hai usato Iperpozione Oh Sì E adesso Anacleto è pronto Per battersi Ancora Non Non conosco bene La mossa vendetta Ma ha veramente Fatto Un Casino Povero Anacleto Allora Ancora Eterelama Su Prima che si svegli Perché se mi fa Un'altra vendetta Mi devasta Ancora E' super Efficace Machamp Nemico Dorme Oh Sì Dormi Sogni Felici E di Ciao Al mio No No Bastardo Anche lui Ha usato Una ricarica Totale Bastardo Infido Infame E' super Efficace Oh sì Preparati Alla disfatta Sì Dai Ce la puoi fare Anacleto Sì Grande Ah Ti adoro Anacleto Ok Prossima scelta Sarà Hitmon Lee Allora Io direi Uh Livello 42 Posso farcela Dai Cerca di essere All'altezza Di quelli Che si sono Fatti battere Prima di te Ci hai fatti Battere Anche tu E' questo Che stai Dicendo Al tuo Hitmon Lee Che tra l'altro E' più veloce Di Di Anacleto Mamma mia Strano Oddio 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 Un ultimo Piccolissimo Sforzo Calci in volo E fallisce E si sbilancia E si schianta Madonna Madonna mia Che sfiga Che sfiga Si sbilancia E si schianta Per Hitmon Lee Ah vabbè E' stato bellissimo Ancora un piccolissimo Sforzo Si schiantato a terra Ha perso un sacco di vita Ho perso Non ho il diritto Di dire nulla Il tuo prossimo avversario Ti aspetta Grazie Sforzo Grazie Sforzo Sforzo Grazie a tutti